Onorevole, lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, ci deve essere il dissenso anche all'interno del partito, che cosa vuole significare? Vuole significare che chiunque ha idee diverse per contribuire alla crescita non solo di future libertà ma alla crescita civile, sociale, economica della nostra terra può dare il proprio contributo, può confrontarsi e poi democraticamente chi ha i numeri avrà ragione. Quindi un nuovo modo di fare politica senza nominati ma con degli eletti. Se dovesse qualcuno del partito essere eletto e andare all'opposizione appoggereste chiunque sia a governare questa città per il buon funzionamento? Certo, l'abbiamo detto prima, il nostro obiettivo è allearci con i cittadini di quarto, non con i partiti di quarto, un modo completamente differente. Bisognerà trovare i programmi, trovare le soluzioni per questa città e poi per il bene dei cittadini tutti a remare dalla stessa parte. Ci sono preclusioni per fare delle alleanze con qualsiasi partito, anche di sinistra col PD? Guardi, ci sono naturalmente delle visioni del mondo, del Veltaschaunung, ognuno di noi ha dei valori che non sono condivisibili. Ma nell'amministrazione si possono trovare delle sinergie, per il bene sempre dei cittadini, che in maniera momentanea possono andare al di là delle visioni del mondo. Noi dobbiamo, in particolare in città come quarto, in città difficili, in città che hanno tantissime emergenze come questa, trovare quali sono le soluzioni migliori per i cittadini. Possiamo anche momentaneamente superare dei paletti ideologici, dei paletti valoriali, ma sempre in questa ottica per poi ritornare ognuno nel proprio valveo. Grazie.